Welcome back, I'm joined now by Sarah from the Humane Society of Carb 9 Cosa c'è? Un gatto in studio? In Italia non si vedono negli studio televisivi dei gatti Cosa c'è? Un serpente lì davanti? Oh ma lo... Oddio! Oddio! Ma lo non si era sviscerato completamente Quel pallone un po' Eh, bravo, buon padre Quel pallone lo vedo un po' troppo grande I colpi di testa non sono ben accetti Ecco appunto l'ho detto! DETTO! Ecco, questa è una cosa che non faccio mai nel tempo libero Dove lo palestra Oddio! Oddio! Attenzione incredibile! Trova il salto, la terza corte, Randy Orton E' molto semplice, ne so... Cosa? E' attenzione, eccolo, il gatto più pigro del mondo Spero sia un gatto Devo alzarmi anch'io la mattina così e cominciare a rotolare tutto il tempo Ma non è un gatto E'... come si chiama questo... Ma è un coglione Un coglione Mi fai bene a dire Ma non mi fate vedere queste cose Non mi fate vedere queste cose Non mi fate vedere queste cose Anche perché... No! No! Che lingua è? No, l'ho appena inventata Attaccala, ti prego, fallo per me E' fastidiosissima questa voce Fastidiosissima MADORDA Attenzione Just do it Cosa? Dove? Perché avete tutto spogato? Sto morendo? Eh... No vabbè... E' epico E' epico Oh... Il cane di piri pie Attenzione... E' semplice la mangi... Oh my... Il signor Gatto è arrivato una zucchina per lei